Con vittoria importantissima, importantissima, bravo Mecca Casi! 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 Dai! Un 2-0 che ci sta tutto, ci sta tutto, vittoria strameritata, bonucci di rigore E continuiamo a scalare le pareti dell'inferno, vero? Esatto! Fino alla fine, vamos, Juve! Dai! Cazzo dai! Casi! Fratelli e sorelle, ciao a tutti, ben ritrovati live reaction di Lazio Juventus Come sempre ripartiamo con la formazione della Juve e quella della vigilia L'ho centrata in pieno per quanto riguarda gli 11 elementi, gli uomini che scenderanno in campo Non nel modulo però perché dovrebbe essere un 3-5-2 puro per la Juventus Riassumendo, come detto, ve lo metto in grafica Juve in campo con il 3-5-2 Con Scesni in porta, difesa con Danilo Bonucci De Ligt a centrocampo, Quadrado Meccani, Locatelli, Rabiot, Pellegrini In attacco, Chiesa e Alvaro Morata Raffreddato, quasi senza voce Febbricitante, col mal di gola, ma non mollo un cazzo La mia, personale, live reaction di Lazio Juventus Lazio Juve, tredicesima serie a team Live reaction con il mitico Alex Spiro alla fine, vamo Juve Dai Ho due, ho Ma ancora una situazione di pericolo Per la difesa della Juve Chiesa, più delle tre, nemmeno con i Pellegrini Lo suono e il suo troppo Il controllo da parte di Morata È rimasto giù Non ha fischiato di bello Probabilmente ci sarà un po' di lavoro Per il bar Sì, al di là dell'intervento che adesso andremo a rivedere Che è questo qua Oh La palla non l'ha abbigliata per cosa, eh? Cioè, questo è il rigore netto, eh? De che cazzo stiamo a parlare? Falca Marelli Sì, verrà segnato il calcio di Pellegrini Perché Morata ha anticipato lentamente Rigore È certo, è certo È certo Guarda, guarda Che cazzo ve mettete le ma su la testa? Ma che cazzo ve mettete le ma su la testa? Oh Oh Dai Bonni Dai Bonni Si va con Bonni Sì 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 Dai Corco Cio Sì Sì Basta, basta 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 la bambina stavolta non può uscire che cosa che cosa che cosa io 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 buono io porco zio uuu Ja io porco è Zio �무 vuoi Bello �� olandro bello Mannaggia la miseria Mannaggia Un tempo se ne è andato La partita si è messa Dalla nostra parte Teniamo duro Proviamo a fare il secondo Se proviamo a fare il secondo Anche il terzo saremo al top Ma è importante anche vingere 1-0 Il rigore solare Muti Vamo Siuve Porco 2 Che sarei a fare Lo secondo adesso Morata a disturbare L'area piccola I colpitori di testa A rimorche Non può uscire Il pallone rimane l'incastrato Porco zio Che è un cassio Oggi si muove Alessà Yo 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 Vai Fede Bello Porco zio ladro Guarda che palla De merda Porco 2 De Mecchenni Cazzo E' very much Bello Arriba anche Sosteigno veloce Da parte di Acervi Li Salverte Carica bella bella sta palla vai fede bello rigore dai boni dai boni dai boni il presimo all'olimpico la aperta di rigore leonardo bonucci non la può chiudere sempre dai 12 passi siiii dai cazzo dai dai non li guarda mai non li guarda mai dai io 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 uno contro uno uno contro uno uno contro uno vai moise porco zio porco porco due ladro vittoria importantissima importantissima bravo beck cazzo 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 dai un 2 a 0 che ci sta tutto ci sta tutto vittoria strameritata bonucci di rigore e continuiamo a scalare le pareti dell'inferno vero? esatto fino alla fine vamo a siuwe dai cazzo dai cazzo 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 cazzo